Siamo qua contro Isi del Montecitorio, partita vinta 6 a 1, intanto complimenti per la splendida partita Dacci un tuo commento Vabbè è stata una partita, le vi avversari erano brave, poi siamo giocata, il risultato che ci siamo portati a casa Questo diciamo è l'importante, che va assolante la partita, però brava è tutto Avete tutti i mezzi per vincere questo campionato o vi manca ancora qualcosa? No, penso che abbiamo tutti i mezzi per vincere, speriamo di portarcelo a casa Ragazzi allora vi faccio un grande in bocca a Luco, grazie mille e buona serata